Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI code per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna ci sono ralentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico e per incidente tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud. In A11 l'area di servizio di Serravalle-Sud in direzione Firenze è sprovvista di GPL. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori di manutenzione tra lo svincolo di Bargino e quello di Tavarnelle in direzione Siena. Sulla statale Trebis-Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Verghereto e Canili. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!